Lo sguardo rassicurante in un certo senso protettivo di una donna che avvicina al suo volto dei fiori di campo ha cominciato già ad osservare e avvolgere la città. L'artista 34enne Mirko Cavallotto, meglio conosciuto come Lost, torna nel suo luogo natio per dare vita ad un'altra opera d'arte. La scelta del soggetto rappresentato rievoca la derivazione araba del nome della città e allo stesso tempo diventa un omaggio alla figura femminile. Non a caso si avvicina sempre più la giornata dell'8 marzo dedicata alla donna. Un nuovo murales dunque prende forma giorno dopo giorno sul lato di uno dei palazzi più alti della città, che si trova vicino al Parco Robinson, così da essere visibile anche da lontano. Dopo aver avuto il consenso da parte dei condomini a Natale del 2019 per proiettare su questa bellissima parete l'albero di Natale più grande di quel periodo, abbiamo proseguito in questa avventura arrivando a sviluppare questo progetto che si chiama Caltaninset Expo, che è un progetto che vuole unire due momenti importanti, quello delle ristrutturazioni che stanno avvenendo un po' in tutta la città con i vari bonus che sono stati messi a disposizione allo Stato e con la street art, qui egregiamente rappresentata dal nostro artista Mirko Cavallotto in Artelost, che ci ha dato la possibilità anche di inventare questo percorso turistico alternativo rispetto a quelli che già sicuramente in città stanno sviluppandosi con altri tipi di attività, che è un percorso che vuol dare ai potenziali turisti o potenziali alle persone interessate a scoprire un po' Caltaninset un punto di vista diverso rispetto a quello normale. Pare sia solo l'inizio di un progetto più ampio che prevede la creazione di Ben 10 Murales. Siamo partiti da questo perché abbiamo avuto il consenso da parte dei condomini, abbiamo trovato i finanziamenti per poterlo fare, c'è stato un lunghissimo percorso anche di decisione e grazie al fatto che abbiamo questo gruppo formato da me, Mirko e Lorenzo siamo arrivati a dare questa impronta a questa parete che intanto parte dal concetto del nome della nostra città, Caltanissetta, ovvero il castello delle donne. Speriamo possa essere apprezzato da tutti i nostri concittadini e possa dare inizio a questa idea che vorremmo sviluppare insieme all'aiuto di tutte le persone che vorranno aiutarci nel proseguo. In realtà è un racconto che parla della città stessa, Caltanissetta, ovvero il castello delle donne, partendo da questo racconto dove i compagni, spesso i mariti delle donne abitanti al villaggio di Pietrarossa, il castello di Pietrarossa, erano vie a coltivare campi, quindi per lunghi periodi fuori da casa, rimanevano le donne a costudire questo castello, a costudire questo villaggio che poi un giorno sarebbe diventata la città. Quindi è bello anche in maniera un po' simbolista richiamare questo periodo. Si vede lei, una donna che è la custode di questa città che si sta costruendo, dove è simbolo di costruzione anche la costruzione del progetto stesso che stiamo portando avanti. Poi alla fine con un mazzo di fiori, intento ad annusare, fiori di campo che sono anche un rimando ai contadini, insomma a quello che è il nostro passato della città. Quindi è un racconto che poi si cerca di sintetizzare attraverso un'unica immagine, uno sguardo che prende, visto le dimensioni della parete, prende tutta la città, riesce a osservare tutto lo skyline di Caltanissetta.